Mister, c'è tanta voglia di riscatto. Sì, sicuramente, sicuramente. Sinceramente mi sono rivisto così la partita anche quella del Catania. Pensavo che vedendola dal campo, con le tensioni, avevamo sbagliato l'approccio. Invece mi sono reso conto che la squadra, ai primi 20 minuti, ha fatto il suo. Ha provato a giocare, ha creato qualcosa di pericoloso. Siamo andati in difficoltà dopo il gol. Dopo il gol abbiamo avuto 20 minuti dove potevamo prendere il secondo. Però la reazione del secondo tempo ci fa veramente ben sperare. Perché la squadra ha fatto un grande secondo tempo, ha creato tante situazioni di pericolo. Potevamo anche pareggiarla se facevamo il primo, nelle occasioni avute. E non voglio parlare neanche degli errori arbitrali che ci sono stati. Ci hanno penalizzato sicuramente. Ma detto questo, quello che è importante è lo spirito in cui la squadra, anche in grossa difficoltà, ha affrontato la partita. Adesso andiamo a Monopoli. Sappiamo che è un'altra partita difficile perché Monopoli è una squadra importante, una squadra che è sempre fatta bene, una squadra di categoria. Allenata molto bene dal mio carissimo amico Scienza. Quindi noi l'unico problema è la tenuta fisica perché purtroppo è vero abbiamo ricoperato tanti giocatori, abbiamo ricoperato altri due, però la condizione fisica purtroppo non si compra. Cerchiamo di fare di necessità per tutti. Sono convinto che faremo una grande prestazione.